Gli anni del boom e del disastro in contemporanea, boom perché sono confluite, la camorra si è unita alla borghesia, queste pseudo pulsioni politiche hanno raggiunto un apice un po' soccrollate, perché questo è successo, ci sono stati tentativi folli, gli anni 90 sono stati il momento più alto e il momento più basso, da l'anno in poi non è successo più niente. Ma per capire questo bisogna tenere conto di quello che era successo negli ultimi anni dell'80 e continuava ancora a succedere nei primi anni del 90, vale a dire lo smantellamento di quella industria che unica esisteva a Napoli che era l'industria pubblica, l'industria di Stato, dalle cotoniere all'ilva di Bagnoli e così di seguito. Questa grossa industria, questa industria più o meno pesante o comunque questa grossa industria, così come era nata per iniziativa pubblica, così sparisce per iniziativa pubblica. Non dobbiamo dimenticare che l'Iri comincia a smantellare le proprie aziende, comincia a sorgere il grande tema della privatizzazione e quindi della dismissione da parte dello Stato, delle sue imprese economiche, tutto questo comincia a Napoli nella seconda metà degli anni 80 e si completa nella prima metà degli anni 90. E quello che era stato negli anni 70, il processo di aggregazione di una classe, la classe proletaria, quel processo si perde, perde i suoi effetti, la classe proletaria si disperde. A Napoli non esiste più classe proletaria e al tempo stesso non è nata una nuova classe borghese. Cioè manca a Napoli, io dico che il grande difetto di Napoli è la separatezza. Cioè a Napoli non vi sono processi capaci di organizzare la molteplicità degli interessi, la molteplicità delle forze, la molteplicità delle intelligenze. C'è soltanto una grande dispersione. E la politica dovrebbe essere una guida. E già, ma la politica da un lato è una condizione perché la coesione si formi, ma dall'altro lato è anche l'effetto di un minimo di coesione che comincia a far battere il cuore politico così come esso deve battere.